Ovunque andrà io non ti lascerò, in pochi e in tanti non importerà, la curva su chiunque affronterà, la 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 Commentiamo insomma questa vittoria Complimenti ai giocatori e a tutti quanti, grazie Oh mio Dio, ti hanno proprio spinto tra le mie braccia Certo, è sempre così, per forza è così Ragazzi, vittoria importantissima Vittoria importantissima Schiacciante Forza Milan sempre Forza Milan andiamo Siamo 2 a 1, quelli segnano, risca il contropiede Il nostro mitico allenatore, noi vinciamo ma io criticherò sempre l'allenatore Al settantottesimo non fa un cambio Ora, per fortuna non cantiamo più Pioli's on fire Speriamo che a giugno se ne vada fuori dai c***o Così abbiamo risolto il problema e siamo a posto Ora io mi auguro che a giugno io mi aspetto Antonio Conte o qualche allenatore serio E che cacciamo sto mediocre del c***o A giugno non in corso stagione In corso Pioli lo manderei fuori a calci nel c***o proprio Anche in stagione in corso, anche se fosse primo in classifica più 20 sulla seconda lo manderei via Perché è stupido, cioè è un allenatore senza logica Toglie Pulisic, Matte Musa, in Coppa Italia è fuori, Champions League è pure fuori Quindi non lo so io Io sono d'accordissimo, infatti Pioli non capisce un c***o Ma però proprio non capisce un c***o Adli oggi li ha provato, li ha provato Che è lui il centrocampista del Milan Chi altro? Grazie a Dio Krunic Non l'abbiamo più visto Ma perché era proprio una grandissima m***o Giuro sono tanto tanto felice che oggi sia il Milan Pioli deve andare via E sono molto d'accordo col signore Ma come tutti i milanisti direi Pioli sei un figlio di... No, scusate No No, scusami Pioli non sei tanto bravo Per favore vattene dal Milan Perché qua io non ce la faccio più Giuro, deve vincere il Milan Ciao, ciao Il problema adesso è un altro Avere ancora Calabria in squadra Perché è un altro che io... Questo è un problema Tranquillamente io non lo posso più vedere Steading Ovation Vedere la fascia da capitano Da Rui Costa a Sedorf, Gattuso, Sceva, Maldini A una m***a come Calabria non ci siamo proprio Addirittura i complimenti Vabbè, cosa ne pensi? Non sempre è m***a Roma No, ridilla Roma No C'avete ancora i cinghiali, città del... No, no, no No, no No, no Volevo solo dire Che partita sontuosa del pittore Adli Che partita Che partita sontuosa Una partita importantissima soprattutto per Pioli Perché è una posizione assolutamente in bilico La tifo serie è un po' divisa su questo Cosa ne pensate? Stasera ottima prestazione da parte di tutta la squadra Serviva questa vittoria Noi da Roma siamo venuti fino a qua Da Roma, proprio Roma Pioli sì, Pioli sì Per me Pioli sì Secondo me c'è un problema con la preparazione atletica Perché troppi infortuni E questo dipende anche da Pioli Dall'allenatore e il suo staff Io lo confermerei, perché no? Perché no? Ma onestamente dopo questa partita non mi interessa Va bene così Va bene lo stesso Va bene lo stesso! A posto, a posto Possiamo riparlarne Vinci anche le altre Vinci tutto il girone di ritorno Puoi stare tutta la vita Puoi riparlarne Sì, sì, ne riparlerei Però dobbiamo giocare bene sempre Non solo oggi Però insomma, fin d'ora è un po' altalenante Questo allenatore o no? Ma no, no, no Non mi sento di criticarlo oggi, dai Io penso che se la prendono sempre È troppo spesso con Pioli Ma la prima responsabilità di questa società È stata la preparazione Che secondo me c'è stato qualcosa Che hanno sbagliato Diciamo le colpe vanno diluite un po' su tutti Vuol dare un po' di fiducia ancora a Pioli Ma credo che ormai si stiano spegnendo un po' le lampadine Sta per finire Credo io Deve essere un po' più grintoso con i giocatori Poi per il resto direi che va bene Non deve mollare Quando facciamo l'1-0 Poi dopo la gente I giocatori sono un po' più morbidini Dovrebbe essere un po' più intraprendente Ti trovi morbidini Eh sì, morbidini Rischia di andare via Però stasera ha confermato essere una grande squadra Il tifoso lo vuole ancora oppure no? Lo vuole, sì Sì, sì Vuole crederci in questo Milan Assolutamente Anche perché gli allenatori che c'erano sulla piazza Meglio Pioli Meglio Pioli Di tutti gli altri Tipo Conte Assolutamente Meglio Pioli Dobbiamo crederci Meglio Pioli di Conte Assolutamente dobbiamo crederci Pioli ha fatto bene al Milan Vediamo quest'anno Le voci sono tante Le voci sono tante Però diciamo che io farei finire il campionato a Pioli Per me va bene così Siamo contenti così Poi noi siamo il Milan E allora abbiamo detto tutto A fresci A fresci Qual è l'umore del tifoso milanista Fuori dalla Champions Fuori dalla Coppa Italia Qual è l'umore? L'umore di un tifoso che quest'anno non aveva aspettative Chissà Che i giocatori che sono arrivati erano da inserire Quindi è un umore Contattatori sempre pieno È sempre una festa Però Vittoria che fa morale Allunghiamo per andare in Champions Dai dai Speriamo bene Fondamentale vincere dopo la sconfitta di Coppa Italia Che fa ancora male È molto Però andiamo avanti in campionato E proviamo ad andare avanti anche in Europa League Quali sono le aspettative? Zero Zero aspettative? È molto difficile l'Europa League C'è rimasto solo quello Perché in Coppa Italia Potevi andare avanti Invece sei uscito Inmeritatamente Perché Inmeritatamente Milano è tornato in Milano È tornato Quello che vogliamo noi Che gioca Che è veloce E poi entra in profondità E segna Pioli doveva fare Secondo me Già prima dei cambi Perché Per esempio L'off to stick Non c'era proprio oggi Vittoria molto importante per Pioli Che si deve rifare Perché Non è stata un'ottima partenza Né di campionato Né in Champions League Non l'abbiamo visto Né in Coppa Italia Né in Coppa Italia Vabbè non ne parliamo C'è il mercato anche C'è il mercato Anche se il mercato di gennaio Io non Non ci credo Non ho mai avuto molta fiducia Che ti lasciano giocatori Diciamo Fortissimi Da cambiare Proprio letteralmente Il reparto Speriamo solo che Nessuno dei nostri Si fa più male Ecco Esatto Il ruolo di Ibraimovic Pensi che Dia valore Alla squadra? Sì Sì perché è una bandiera E comunque sia Ci sta nella società Bastone e carota Secondo di come tratta i giocatori È tanta roba Ibra È un valore aggiunto Molto aggiunto Una posizione come Ibra Lo sappiamo tutti Che giocatore è Ma qual è il ruolo di Ibra? Si è capito? Eh... Non lo so Mental coach Perché vedendo quel mediocre in panchina L'unico che poteva fare Un saldo di qualità E dare un po' di spirito Era Ibra Eh ancora lo devo capire Eh... Ancora non ho definito Sicuramente anche solo Averciolo in stadio Può fare la differenza E va bene così Fondamentale Due anni fa lo scudetto Ce l'ha fatto vincere lui Adesso Vai negli sbogliatoi E gli fa il c***o A tutti i giocatori Divigente Manager Non lo so Comunque uno che è dietro Le quinte sa fare la sua parte L'hai capito che ruolo ha precisamente? Penso un ruolo fondamentale Non mi ricordo Fondamentale ma non si sa quale Ancora no Però l'importante è che stia lì Poi ci dirà qualcosa lui È un legame tra la società E la squadra Tramite Pioli anche naturalmente E per ora un consigliere Che quando c'è da usare un po' di cazzimma La usa Non si sa Senior advisor Ecco ecco infatti Però vedremo Non si è capito bene Non si è capito bene Vorrei dire sempre forza mila E ringraziare la Curva Sud Perché sono i migliori E poi perché abbiamo carattere Anche se siamo usciti contro l'Atalanta Abbiamo carattere Pioli out o no? Un po' sì un po' no Eh ma che risposta Il gioco non c'è però Vinciamo perciò Lo teniamo Viniamo la stagione Poi vediamo Si tira la riga A fine stagione Perché a metà stagione Non puoi tirarlo via Assolutamente no Ma non per stasera Per sempre Però si parla che della prossima stagione Insomma un cambio di allenatore Cosa ne pensi? Vabbè il cambio di allenatore La prossima stagione È un investimento futuro Però io sono dalla parte del mister sempre Arriviamo a fine anno E poi traiamo le conclusioni Dai Si è parlato di un esonero Anche in corso campionato Cosa? Se vincere l'Europa League Arriviamo in Champions E poi si vedrà Però Non ti esprimi Il gruppo è alla fine Dai Ora non è il momento di Out più all-out Andiamo avanti Perché non saremo Non avremmo nessuno Da poter cambiare E ripartire da Da zero È troppo tardi ormai Finiamo la stagione Sono contenta di incontrarvi Questa Roma sta soffrendo Veramente tanto Moltissimo Moltissimo Almira Grande squadra E niente Murigno È stato considerato quasi come un re Ora? Per me è un re ancora Comunque No per me è la società Che dovrebbe iniziare a acquistare Un po' di giocatori buoni Non Non rotti Vabbè forse Murigno Fino a un certo punto Perché se poi le verdi tutte Comunque prima o poi Deve andare via Sta cambiando questa opinione Sì 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 Piano piano cambia No ha detto no 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 non cambia secondo me Poi gli attaccanti non funzionano Hanno preso uno buono però Ebbè comunque sempre forza Roma Sempre Non dipende da Murigno Ma dipende dai giocatori Secondo me sì un po' pure In campo non si salva uno Benissimo Gli obiettivi di quest'anno Non retrocedere L'umore del tifoso milanista A parte questa vittoria Qual è? Che siamo fuori di testa Forza Milani Forza Milani